Pochi momenti si presentano alla finestra della ragione. Se le cose stanno così mi rivolgerò a chi? Dell'amore non fa mistero ma dell'amore è vero. I sentimenti si presentano alla porta del cuore. Se le cose stanno così mi rivolgerò a te. Che mi guardi con quegli occhi anche se non hai parole. Che mi guardi con te. Che mi guardi con te. I sentimenti si presentano alla porta del cuore.